Grazie a tutti. Allora, siamo in collegamento telefonico con il nostro mentor a Roma, il signor Francesco De Paulis. Facciamo un applauso per il lavoro che avete qui fatto da tecnici, c'è anche un lavoro di organizzazione. ...manca veramente poco. A questo momento io ho l'orizzonte della stazione stazione internazionale. ...manca veramente poco. 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 ...guicidio. ...16, cambia sulla schermata grante. ...sì. ...veloce. ... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti